Musica Sabato 10 settembre 2022, bentrovati sul 15 per l'informazione regionale di Esperia TV in apertura la cronaca, indagini in corso sull'aguato che ieri sera è costato la vita ad Alessandro Morfei 30 anni freddato nelle campagne di Dinami in provincia di Vibo, Valencia, il servizio Non c'è stato scampo per Alessandro Morfei, trentenne ucciso nella serata di venerdì nelle campagne di Dinami Un omicidio dai contorni ancora da definire, avvenuto attorno alle 21 e 30 lungo una strada che conduce alla cittadina che si trova, nelle serre vibonesi Morfei, già noto alle forze dell'ordine, sarebbe stato attinto da colpi di arma da fuoco si ritiene un fucile a pallettoni mentre si trovava a bordo del suo trattore Nonostante i tempestivi soccorsi e il trasporto d'urgenza nell'ospedale Napitino è morto poco dopo I medici, di fatti, gli hanno riscontrato ferite gravi all'addome, al torace, alla schiena Il killer o i killer sono entrati in azione favoriti dal buio della zona, isolata si presume sparando all'indirizzo della vittima da una distanza ravvicinata Non si esclude che conoscessero anche le abitudini del trentenne Al momento i carabinieri stanno svolgendo le prime indagini e hanno ascoltato i parenti e i familiari della vittima Sarà comunque l'autopsia dover dare utili indicazioni agli investigatori che stanno indagando a 360 gradi Il GIP del Tribunale di Catanzaro ha rimesso libertà l'avvocato Rosa Ruggiano del Foro di Castrovilla riconvolto nella maxi operazione Reset della DDA di Catanzaro portata a termine nei giorni scorsi nel Cosentino La professionista era finita gli arresti domiciliari con l'accusa in concorso con altri indagati di aver svolto il ruolo di intermediaria nell'ambito di un contestato episodio di usura ai danni di un soggetto in difficoltà economica e finanziaria Dopo la pronuncia del GIP distrettuale a carico di Ruggiano rimane un obbligo di dimora nel comune di residenza con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle 21 alle 7 del giorno successivo Tre persone sono finite in carcere con l'accusa di tentata estorsione aggravata dalle modalità mafiose perché avrebbero costretto il proprietario di alcune villette situate nel villaggio Carrao siamo a Cropani Marina a pagare la guardiania La Cosca e Gemone sul territorio Il GIP Paola Ciriaco ha disposto l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di Leonardo Trapasso, Salvatore Magri e Stefano Roberto Cosco Il caro Energia colpisce davvero tutti ed anche i titolari degli impianti di distribuzione carburanti ecco perché l'Associazione Nazionale dei Liberi Imprenditori chiede un sussidio per il personale non lo chiede al governo ma direttamente alle compagnie petrolifere Abbiamo scritto alle compagnie petrolifere e dai Ministeri dell'Economia e della Transizione Ecologica per porre alla loro attenzione la condizione in cui versano i gestori degli impianti di rifornimento a seguito dell'aumento esponenziale del costo dell'energia Lo scrivono Alessandro Del Fiesco e Ferruccio Schiavello dell'Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori Dalla fine dello scorso anno la parabola ascendente di aumenti esacerbata dallo scoppio del conflitto in Ucraina ha quadruplicato le spese di gestione I margini sono rimasti invariati, i volumi di vendita ancora non sono tornati ai livelli pre-pandemia l'inflazione galoppante sta inducendo gli italiani a contrarre ulteriormente i consumi La categoria è agonizzante Sono state numerose in questi giorni le chiusure di attività pluridecennali con la conseguente perdita di posti di lavoro Parliamo di imprese che non sono in grado di far fronte all'impennata dei costi di gestione e sottostare al contempo agli obblighi di comodato che ne limitano la libertà imprenditoriale L'iniziativa del Governo di ridurre le accise ha fatto sì che il peso dell'intervento sia stato assorbito totalmente dai distributori di carburante Non intendiamo rimettere in discussione gli accordi di settore però riteniamo serio e utile chiedere alle compagnie petrolifere un sussidio una tantum proprio per far fronte agli aumenti dei costi di gestione degli impianti Le quattro mensilità di sussidi per aiutarci a far fronte alle utenze concludono dalla SNALI possono realmente fare la differenza e far sopravvivere numerose attività Verso il voto del 25 settembre Luigi De Magistris, ex magistrato, ex sindaco di Napoli in campo con Unione Popolare è stato a Cosenza, vediamo Mi aspetto un buon risultato in Calabria, in Campania e nel sud in Italia perché veramente siamo l'unica forza alternativa dobbiamo far conoscere il nostro simbolo visto che siamo appena nati io sono molto contento anche del lavoro svolto fino a questo momento Luigi De Magistris si ispira a Pasolini e col sorriso l'ex candidato governatore della Calabria ci riprova con le elezioni politiche davanti alla sede dell'ufficio scolastico regionale a Cosenza l'ex PM di Catanzaro è protagonista di un nuovo evento corsaro accanto a lui le candidate al plurinominale Anna Teresa Gagliardi e Deleonora Fiorenza e poi Pino Ansalone della sinistra CGL siamo l'unica coalizione pacifista, chiara, ambientalista e che mette al primo posto la giustizia sociale ed ambientale noi dobbiamo in questo momento togliere i super ricchi e dare a chi sta in difficoltà noi lo possiamo fare perché abbiamo le mani libere siamo persone autonome, indipendenti abbiamo il coraggio per poter rompere un sistema consociativo non disdegna una stoccata a Conte del quale dice di avere appreso solo in questa campagna elettorale che fosse di sinistra De Magistri si ricorda che Conte fu quello che ordinò quando era premier di chiudere i porti ai migranti ricordiamoci che ormai siamo da un anno dalle elezioni qui in Calabria alle regionali e la sanità continua a soffrire e quindi questo è sicuramente il primo punto giusto per dare un dato 40 miliardi in meno di risorse negli ultimi dieci anni alla sanità quasi 200 ospedali chiusi in tutta Italia circa 850 presidi sanitari e 45 mila infermieri e medici in meno scuola pubblica, sanità pubblica sono temi caldi nel programma di Unione Popolare un testo 15 pagine 120 proposte 12 capitoli togliere ai ricchi e dare a chi sta in difficoltà più che Sandokan Robin Hood che rubava ai ricchi per dare ai poveri ma in campagna elettorale non è reato Dalla politica alla scuola dall'inizio della prossima settimana entra nel vivo il mondo della scuola in Italia per il ritorno tra i banchi in Calabria la campanella suonerà il prossimo 14 settembre la prossima settimana sarà quella decisiva in gran parte d'Italia per l'avvio del nuovo anno scolastico il 12 settembre la campanella suonerà per gli studenti di Abruzzo Basilicata Friuli Venezia Giulia Trentino Piemonte Veneto e Lombardia il 13 settembre toccherà rientrare tra i banchi ai ragazzi campani il 14 settembre a Calabria Liguria Marche Puglia Sardegna Umbria e Molise il 15 settembre seguiranno gli studenti di Lazio Emilia Romagna e Toscana ultimi a rientrare in classe quelli di Sicilia e Valle d'Aosta il 19 settembre hanno già cominciato le lezioni in Alto Adige il 5 settembre scorso dopo tre anni di pandemia quest'anno per la prima volta si tornerà a scuola senza mascherine tranne per il personale scolastico e gli alunni a rischio senza orari diversificati senza misure di distanziamento e non è prevista la didattica a distanza se un alunno si ammalerà di covid insomma rimarrà a casa come quando si prende una qualunque influenza e non potrà seguire le lezioni dalla sua camera il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi in questi giorni ha assicurato che allo stato attuale cominceremo con un anno scolastico in cui non mancano i docenti secondo i sindacati invece ne mancano 200.000 15.000 amministrativi e fra l'altro non sono stati nominati circa 500 dirigenti previsti perfino dall'organico le questioni dello sviluppo sui lavori di recupero dell'ex area Sensi nel porto di Crotone contiamo sul lavoro operoso e sinergico delle istituzioni di autorità portuale preposte per consentire l'apertura del cantiere di demolizione dei vecchi manufatti e a seguire la caratterizzazione dell'area per i lavori di bonifica lo dice il presidente di Confindustria Crotone Mario Spanò che ha partecipato all'incontro avuto nel capoluogo pedagorico con il presidente dell'autorità di sistema portuale Andrea Costinelli con l'amministrazione e col consigliere di Confindustria Francesco Mazzei questi interventi sottolinea Mario Spanò sono passaggi fondamentali per istituire decoro e bellezza ad un'area che potrà collegare porto vecchio e porto nuovo e che diventa strategica per la realizzazione di strutture turistiche destinate a servizi per i diportisti i croceristi e i rifruitori del porto turistico per il presidente Spanò il porto e l'aeroporto sono nodi fondamentali a cui devono essere collegate le reti infrastrutturali moderne festa grande a Reggio Calabria oggi per la Santa Patrona la Madonna della Consolazione davvero in migliaia Reggio Calabria per la processione che ha accolto la sua patrona Santa Maria madre della Consolazione tradizionale percorso in preghiera dalla Basilica dell'Eremo sino al Duomo Cittadino festa grande per i reggini che non hanno mancato l'importante appuntamento con visibile emozione l'emozione particolare deriva dai due anni di pandemia quando non abbiamo potuto abbracciare la nostra patrona e oggi finalmente lo possiamo nuovamente fare l'emozione per me è particolare perché oggi ho l'onore e il privilegio di rappresentare la città e accogliere qui a Piazza della Consegna la nostra patrona un rito che si ripete negli anni è il calore e la passione e la fede che stanno dimostrando i nostri concittadini verso la nostra patrona è quello di sempre con una preghiera particolare quest'anno alla Madonna della Consolazione che è quella che ci liberi finalmente da questa pandemia e che ci aiuti nel percorso amministrativo che la città sta percorrendo con le mille difficoltà che ci aiuti a superarle e che ci dia la forza per affrontare i problemi e assieme a lei assieme alla protezione della Madonna della Consolazione siamo certi che riusciremo a risolvere i problemi di questa città portiamo pagina a cambio al comando dell'ufficio circondariale marittimo di Roccella Ionica il tenente di vascello Daniele Tecconi prende il posto del parigrado Tommaso D'Arpino lo ricordiamo quello di Roccella è un ufficio strategico del mare perché copre il territorio della Locri il teatro di decine e decine di sbarchi di migranti ogni anno sotto ufficiali graduati truppa in nome del capo dello Stato riconoscerete voi il tenente di vascello Daniele Tecconi quale capo del circondario marittimo e comandante del porto di Roccella Ionica e il tenente di vascello Daniele Tecconi nuovo comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Roccella Ionica succede al parigrado Tommaso D'Arpino destinato al comando generale delle capitanerie di porto a Roma Daniele Tecconi proviene dalla capitaneria di porto di Pozzallo in un'atmosfera cordiale alla presenza delle autorità locali e militari si svolta la cerimonia del passaggio delle consegne una struttura che in questi mesi è stata messa a dura prova sì il bilancio è di 94 operazioni di ricerca e soccorso che sono state effettuate in questi due anni a favore soprattutto di migranti irregolari in questi due anni di comando sono giunti nel porto di Roccella Ioni e comunque in tutto il territorio di giurisdizione anche mediante sbarchi autonomi più di 10.000 migranti e ovviamente noi operiamo abbiamo operato all'interno dell'area SAR di giurisdizione area di ricerca e soccorso dell'Italia e interveniamo per ovviamente richieste di soccorso che in questi due anni sono state sono state numerose è questo di Roccella Ioni che è il suo primo comando sì primo comando non prima volta in Calabria perché avevo avuto una breve esperienza durante gli anni dell'Accademia a Giove Tauro quindi uno stop and go conosco leggermente la realtà Calabra non nascondo sicuramente l'emozione e la voglia di fare bene di seguire il solco lasciato dal mio predecessore di cui ho sentito molto ben parlare e nulla cosa dire se non mettersi a completa disposizione delle istituzioni e dei cittadini per fare meglio il nostro lavoro voltiamo pagina cambiamo decisamente argomento stando alle stime degli organizzatori a Rende sono attese 300.000 persone da venerdì 16 settembre a domenica 2 ottobre in occasione della terza edizione dell'Octoberfest Calabria la Kermess è stata presentata la stampa da venerdì 16 settembre a domenica 2 ottobre torna a Rende l'Octoberfest Calabria si tratta della terza edizione nel corso di una conferenza stampa la WISEA Eventi ha presentato tutte le informazioni utili a conoscere orari concerti eventi collaterali in programma e tutte le specialità del menù bavarese accompagnato dall'ottima birra oltre alla gastronomia tipica di Monaco di Baviera i 17 giorni dell'Octoberfest Calabria saranno all'insegna anche dell'intrattenimento della musica dello spettacolo delle attività per bambini e delle iniziative a sfondo sociale e benefico a sottolineare l'importanza della Kermess sono stati l'assessore all'attività produttiva di Rende Domenico Ziccarelli e la presidente della provincia di Cosenza Rosaria Succurro quest'anno se ne aspettano 250.000 è normale che un'iniziativa del genere porta vantaggio a tutta Rende a tutta la nostra comunità l'Octoberfest in fondo è un evento importante un attrattore importante per tutta la provincia di Cosenza ma direi non solo vista l'importanza dei numeri che genera questo evento e soprattutto la possibilità anche di far conoscere anche un territorio che è bellissimo una provincia che è stesa in maniera importante che ha tanto da offrire in termini non solo di bellezze ma anche di gusti colori calore e l'Octoberfest riesce a racchiudere tutto questo in questa splendida ecocornice che è la città di Rende il calendario degli eventi è stato annunciato dal direttore artistico della manifestazione Walter Sposato tra le altre cose abbiamo cavalcato l'eco che Giovanotti ha portato nella nostra regione quest'anno sia con il Giova Beach Party che con la realizzazione del video di Alla Salute e pertanto avremo la cover nazionale di Giovanotti e avremo un'altra cover che è molto richiesta che è quella dei Coldplay che in questo periodo stanno facendo il tutto esaurito per quanto riguarda i biglietti per le prossime tappe in Italia anche quest'anno l'Octoberfest Calabria prevede l'ingresso gratuito tutti i giorni nell'accogliente palatenda con 3000 posti a sedere dove si tengono i concerti e il DJ set e dove ogni sera si esibisce la band bavarese dei Vagabunden e di temi sociali e culturali si è parlato molto nel corso della conferenza stampa dove è stato messo in evidenza la fattiva partecipazione di partner istituzionali associativi che sostengono il progetto di gemellaggio territoriale proposto dal portavoce della WISEA Holding Valerio Caparelli con cui si intende creare uno scambio culturale tra le regioni della Baviera e della Calabria così come per le città di Monaco e Rende è stata a Crotone ieri sera Francesca Piccinini grande campionessa ex capitana azzurra di volley vediamo per una serata speciale ci voleva un personaggio top e così la presentazione della squadra femminile di Crotone di volley ha avuto come guest star la pluridecorata Francesca Piccinini probabilmente la miglior giocatrice al mondo di volley non più in attività che ha fatto da madrina la squadra e ha naturalmente impreziosito la serata Francesca Piccinini è stata al centro di un salotto nel quale ha risposto alle tante domande dei giornalisti attraversando la sua preziosissima carriera agonistica insieme con Romina Pioli da poco eletta presidente della Pallavolo Crotone ha poi firmato un protocollo di collaborazione con la società Wiva Volley di Busto Arsizio ha ricevuto in dono una maglia della squadra crotonese col suo numero 12 preferito e ha regalato una sua gloriosa maglia alla società crotonese una serata all'insegna della gioia con tantissime piccole fan in estasi per la presenza della pluricampionessa decorata Francesca oggi sei ritornata un po' piccolina ma io sono sempre piccola poi quando sono a contatto con i giovani mi diverto mi diverto e è bello è bello e penso che comunque lo sport ti rende giovane ti rimane rimango sempre giovane comunque dentro sono giovane gli anni passano però ahimè io mi sento ancora una ragazzina con tanta voglia di fare che però sa fare bene la madrina ah grazie complimento l'ho fatta questa è la seconda volta vediamo però mi piace di essere di buon auspicio per le giovani cosa porterà via da Crotone beh sicuramente tanti sorrisi è una città che ha tanta voglia di crescere mi è piaciuta tanto nel senso ho visto proprio le persone belle belle una bella famiglia mi ha accolto davvero qua a Crotone una grande famiglia il messaggio universale dello sport sempre all'apice per tutte le nuove generazioni un messaggio che lo sport fa bene dai più piccoli anche quando si è grandi c'è da fare sport che sia una passeggiata una camminata però bisogna sempre fare qualcosa e anche il comune di Crotone non ha voluto mancare conferendole una menzione speciale per meriti sportivi da oggi Francesca Piccinini nata a massa e anche un po' crotonese ci rivedremo qui? assolutamente sì e poi c'è il calcio domani in campo le calabresi di serie C il Crotone all'uscita a sfida il Monopoli mentre il Catanzaro in trasferta dovrà vedersela con il Taranto il servizio di Luigi Saporito quasi 3.000 abbonati e grande attesa per le soldi in casa del Crotone contro il Monopoli dopo la bella vittoria di Messina pugliesi da prendere con le pinze dopo la larga vittoria casalinga sul Taranto ma il Crotone dovrà sfruttare al massimo il fattore campo dove dovrà costruirsi la promozione in casa dobbiamo dobbiamo costruire il nostro fortino dobbiamo costruire una mentalità importante dove dove ci dobbiamo sentire padroni nel vero senso della parola perché siamo a casa nostra vogliamo essere vogliamo determinare le nostre sorti noi con le nostre mani con i nostri piedi con la nostra testa con il nostro cuore e vogliamo essere trascinati da non dal dodicesimo come ha detto capo Ultras ma da uno di noi che è il pubblico dobbiamo trovare questa formula questa formula abbiamo la stiamo elaborando i risultati saranno quelli che ce la determineranno ecco nel calcio per costruire qualcosa ci vuole tempo per perderlo ci vuole poco noi stiamo facendo di tutto per costruire questo ambiente questo habitat ora i risultati ci devono dare una mano presentazione della partita di domenica la condizione generale non può essere ottimale e sarebbe preoccupante se lo fosse perché comunque solo le partite vere solo le partite che ti impegno dal punto di vista nervoso ti calano totalmente nella parte quindi questo non può essere avvenuto avverrà adesso nelle prossime partite chiaramente no ma è normale non è non è il crotone è proprio il campionato che è questo è l'atleta che si completa strada facendo e quindi siamo nei tempi abbiamo una condizione più che sufficiente l'aumenteremo strada facendo e quindi io sono fiducioso e ottimista il Catanzaro dopo il largo successo alla prima in casa contro il Picerno cerca di confermare in quella che già si prospetta come una trasferta difficile e complicata dopo il pesante cappò rimediato dalla squadra Tarantina allenata da Nello di Costanzo ecco Vivarini dopo la rifinitura prima della partenza per la Puglia abbiamo lavorato abbiamo lavorato sicuramente per affinare quei problemi che ho detto prima i problemi che abbiamo avuto domenica perché i problemi ci sono stati e su questo insomma abbiamo cercato di mettere il riparo magari troviamo un'altra squadra con quelle caratteristiche e lì dobbiamo essere più bravi di quelle che abbiamo fatto domenica e poi è chiaro che ci siamo proiettati sulla partita di Taranto che troviamo un modulo diverso troviamo un atteggiamento di squadra totalmente diversa e abbiamo lavorato soprattutto sul fatto che troviamo una squadra il Taranto che sarà motivatissima ed ora le previsioni del tempo come sempre a cura di trebimeteo.com ben trovati in aggiornamento con le previsioni di Trebimeteo situazione per la giornata di domenica ancora infiltrazioni di aria un po' umida in quota con qualche accenno instabile sull'Italia alta pressione che comunque in avvio di settimana dalla Spagna raggiungerà le nostre regioni apportando un significativo miglioramento dappertutto e anche un incremento delle temperature domenica bel tempo anche se durante il pomeriggio ci sarà un aumento dell'instabilità sulle aree montuose la prossima immagine ci conferma di fatti l'assenza di precipitazioni durante la prima parte del giorno ma di nuovo dicevamo durante il pomeriggio ecco i piovaschi attesi lungo l'Appennino in parziale estensione alle zone collinari o comunque limitrofe costiere del basso tirreno del medio adriatico altrove bel tempo al nord massimo fino a 27-28 gradi al centro-sud tra i 28 e i 32 gradi dettagli maggiori e approfondimenti ritrovate però sull'app di Trebi Meteo è tutto col meteo grazie per l'ascolto buon procedimento di serata ci rivediamo più tardi grazie a tutti